Amici di Vedi in Vino, ciao, sono qui con Cristian e presentiamo il Prosecco DOCG di Italia di San Venanzi, un Prosecco di qualità, quindi Prosecco al 100%, 11 gradi e mezzo, DOCG, da notare perché non tutti i Prosecchi sono DOCG, loro hanno scelto sull'onda della qualità di marchiarli tutti con marchi DOCG, lo andiamo a degustare, in più un 2011, un bel millesimato, incredibile, cosa rara, bene, allora, colore, qui Filippo io direi un bel giallo verdolino, si vede proprio, assolutamente, molto brillante, molto brillante, sì, e abbastanza, le bolle abbastanza fini, anche abbastanza persistenti, vai, andiamo al naso, qui si parla proprio di intensità, molto molto persistente, qui c'è la frutta esotica, esotica, dell'ananas, della banana, quasi quasi un po' di mango, ti direi che, ad annusarlo senti proprio la freschezza della, che meraviglia di Prosecco, frutta esotica, bellissima, davvero, beh vediamo se corrisponde tutto fino in fondo, è un extra dry, quindi a boccato, a 11 gradi e mezzo, quindi leggero, morbido, avvolgente, sì, questo è un vino immediato, immediato, di qualità, cioè, questi ragazzi sono bravissimi, io, sono anche simpatici, veramente fanno un buonissimo Prosecco, temperatura sempre bassa, cosa dici? 6-8 gradi, mi raccomando, temperatura bassa, direi che potremmo abbinarlo con dei formaggi per esempio, assolutamente sì, per tutti i brindisi tra Vigilia, Natale, l'ultimo dell'anno, cosa molto importante da dire, questo Prosecco piace tantissimo alle donne, e quando piace alle donne, siamo contenti tutti, vittoria, amici di vino, grazie, ciao!